6 ecco che sono già passati due giorni da quella stupida giornata e quanto rumore quanto fracasso quante chiacchiere quante grida e quanto disordine confusione stupidaggini e volgarità tutto per colpa mia eppure talora tutto ciò fa venire da ridere almeno a me non riesco assolutamente a capire cosa mi sia successo se sono veramente in preda alla frenesia o se invece sono semplicemente uscito di carreggiata e mi abbandono alle mie stravaganze finché non mi legheranno a momenti mi sembra di uscire di cervello a momenti invece mi sembra di essere ancora un ragazzo appena uscito dai banchi di scuola che ha semplicemente commesso delle sgarbate monellerie ma è polina polina la causa di tutto se non ci fosse lei forse non avrei neppure commesso certe assurde monellerie chissà forse io faccio tutto questo per disperazione per quanto sia sciocco ragionare a questo modo e non capisco assolutamente non capisco che cosa ci sia in lei per essere bella comunque è bella o almeno così pare infatti anche gli altri perdono la testa per lei è alta e snella solo è un po troppo sottile mi sembra perfino che si potrebbe fare un nodo con la sua persona o piegarla in due l'impronta del suo piedino è lunga e stretta insomma è una tortura una vera tortura i capelli hanno un riflesso rossastro gli occhi sono proprio da gatta ma che sguardi orgogliosi e alteri sanno lanciare quattro mesi fa quando io ero appena entrato in servizio ricordo che lei una sera in sala parlò a lungo e con calore con de griot e lo guardava in un modo tale che più tardi quando fui rientrato in camera mia mi fui coricato mi immaginai che gli avesse dato uno schiaffo che glielo avesse appena dato e stesse in piedi davanti a lui guardandolo e fu proprio da quella sera che mi innamorai di lei ma torniamo al fatto sono sceso per un sentirino fino al viale mi ci sono proprio fermato in mezzo e ho aspettato la baronessa e il barone quando sono arrivati a cinque passi di distanza mi sono tolto il cappello e mi sono inchinato ricordo che la baronessa indossava un vestito di seta di una larghezza smisurata di color grigio chiaro con falpalà crinolina e strascico era piccola di statura straordinariamente grassa con un mento così grasso e cascante che non si vedeva fatto il collo gli occhi erano piccoli malvagi e sfrontati incedeva con una tale aria di degnazione come se tutti dovessero sentirsi onorati di respirare la stessa aria che respirava lei il barone era alto e secco il volto come si vede spesso nei tedeschi era storto e coperto da mille sottilissime rughe portava gli occhiali e poteva avere 45 anni l'attaccatura delle gambe gli cominciava quasi sotto il petto e questo è un segno di antica razza superbo come un pavone un po goffo il volto aveva un'espressione un po pecorile che avrebbe dovuto tenere il posto e testimoniare di una profondità di pensiero tutto questo mi è balenato davanti agli occhi in appena tre secondi il mio inchino col cappello in mano ha richiamato la loro attenzione il barone si è limitato ad aggrottare le sopracciglia la baronessa continuava a incedere diritta su di me madame la baronne ho detto allora distintamente e ad alta voce spiccando ogni parola j'ai l'honneur d'être votre esclave dopodiché mi sono di nuovo inchinato mi sono rimesso in testa il cappello e sono passato accanto al barone sorridendo col viso cortesemente volto verso di lui polina mi aveva ordinato di togliermi il cappello ma l'inchino e la monelleria erano di mia iniziativa chissà che diavolo mi aveva spinto avevo l'impressione di buttarmi giù da una montagna ayn gridò o meglio gracchiò il barone volgendosi verso di me in atteggiamento di rosa meraviglia mi sono voltato fermandomi in atteggiamento di rispettosa attesa e intanto continuavo a guardarlo e a sorridere il barone evidentemente perplesso aveva inarcato le sopracciglia fino al neck plus ultra il suo viso si andava sempre più oscurando anche la baronessa si era voltata verso di me e anche lei mi guardava con indignata perplessità dei passanti si erano voltati a guardare e qualcuno si era perfino fermato ayn ha gracchiato di nuovo il barone con raddoppiato sdegno javol ho risposto io strascicando la voce e continuando a guardarlo dritto negli occhi sin si rasen ha gridato il barone agitando il suo bastone a quanto mi è parso cominciando a impaurirsi un pochino forse lo sconcertava il mio abito infatti ero vestito molto distintamente e quasi con eleganza come una persona appartenente alla più distinta società javol ho gridato a un tratto a tutta forza strascicando la o come fanno i berlinesi che nel corso della conversazione si servono continuamente dell'espressione javol strascicando più o meno la o per esprimere le più varie sfumature di pensieri o di sensazioni allora il barone e la baronessa hanno fatto rapidamente dietro front e si sono quasi dati alla fuga spaventati qualcuno degli astanti ha fatto dei commenti altri mi guardavano perplessi del resto non ricordo bene ho fatto anch'io dietro front e al mio passo normale sono tornato verso polina alexandrovna ma mentre mi trovavo ancora un centinaio di passi dalla sua panchina l'ho vista alzarsi e dirigersi verso l'albergo con i bambini l'ho raggiunta sulla scala d'ingresso ho eseguito la stupidaggine le ho detto quando le sono arrivato accanto beh e con ciò adesso se la sbrighi lei ha risposto e senza neanche guardarmi si è avviata su per la scala per tutta la sera sono andato a passeggio per il parco poi attraverso il parco il bosco sono addirittura passato in un altro principato in una casetta ho mangiato una frettata e bevuto del vino per queste gioie idilliache mi hanno preso in tutto un tallero e mezzo sono tornato a casa alle 11 e subito mi hanno chiamato da parte del generale i nostri all'albergo occupano due appartamenti e dispongono di quattro stanze la prima molto grande è un salone col pianoforte accanto c'è un'altra grande stanza lo studio del generale qui lui mi aspettava in piedi in mezzo alla stanza e in posa straordinariamente maestosa de griot se ne stava stravaccato sul divano egregio signore mi permetta di chiederle che cosa ha combinato ha cominciato a dire il generale rivolgendosi a me preferirei generale che lei venisse direttamente al fatto ho risposto lei evidentemente vuole alludere al mio incontro di oggi con quel tedesco quel tedesco quel tedesco è il barone vurmerelm ed è un personaggio importante lei è stato villano con lui e con la baronessa no assolutamente lei li ha spaventati egregio signore si è messo a gridare il generale per nulla ha fatto ancora dai tempi di berlino mi era rimasto nell'orecchio quel loro jawohl ripetuto a ogni istante e che loro strascicano in maniera così rivoltante quando ho incontrato quei due sul viale non so perché quello jawohl mi è improvvisamente tornato in mente con un effetto notevolmente irritante e per giunta è la terza volta che la baronessa incontrandomi all'abitudine di venirmi direttamente addosso come se fossi un verme che si può schiacciare col piede anche lei ammetterà che pure io posso avere dell'amor proprio mi sono tolto il cappello e ho detto cortesemente cortesemente gliel'assicuro madame j'ai l'honneur d'être votre sclave quando poi il barone si è voltato verso di me e ha gridato hein qualcosa a un tratto dentro di me mi ha spinto a gridare anch'io jawohl e l'ho gridato due volte la prima volta in tono normale la seconda strascicando la voce con quanto fiato avevo in gola ecco tutto confesso che ero terribilmente soddisfatto di quella mia spiegazione assolutamente fanciullesca mi era venuta una gran voglia di far apparire tutta quella storia sotto i colori più assurdi e quanto più andavo avanti tanto più ci prendevo gusto lei vuol forse prendersi gioco di me ha gridato il generale e voltandosi verso il francese gli ha spiegato nella sua lingua che io mi volevo ficcare in un imbroglio de griot si è limitato a sorridere sprezzantemente e a stringersi nelle spalle a non si faccia venire quest'idea non è affatto così ho esclamato io rivolto al generale naturalmente la mia non è stata una bella azione e lo riconosco con la massima franchezza il mio atto lo si può perfino definire una sciocca e sconveniente monelleria ma nient'altro e sappia generale che ne sono sinceramente pentito ma c'è qui una certa circostanza che almeno ai miei occhi mi dispensa quasi dal pentimento in questi ultimi tempi diciamo da due o tre settimane non mi sento bene sono malato nervoso irritabile lunatico tanto che in certi casi perdo completamente il controllo è un fatto che certe volte mi viene improvvisamente la voglia di rivolgermi al marchese de griot e ma del resto non c'è ragione di dire tutto potrebbe anche offendersi insomma si tratta di sintomi morbosi non so se la baronessa wurmerelm vorrà prendere in considerazione una tale circostanza quando le chiederò scusa dal momento che ho intenzione di chiederle scusa penso però che non vorrà farlo tanto più che per quanto ne so in questi ultimi tempi di una tale circostanza si è cominciato ad abusare nel mondo giuridico in parecchi processi penali gli avvocati hanno preso l'abitudine di giustificare i criminali loro clienti sostenendo che nel momento di compiere il crimine essi avevano perso la testa al punto di non ricordare più nulla l'ha ammazzato dicono e non si ricorda nulla e questa sarebbe una specie di malattia e si figuri caro generale che la medicina li appoggia e conferma che una tale malattia esiste effettivamente capitano dei casi di temporaneo offuscamento durante il quale la persona perde completamente la testa o la perde per metà o per un quarto ma il barone e la baronessa sono persone appartenenti alla passata generazione e per giunta sono iunca e ricchi proprietari quindi probabilmente essi non sono informati dei progressi recentemente compiuti nel mondo giuridico e quindi non accetteranno le mie spiegazioni che ne pensa lei generale basta signore ha esclamato il generale in tonno reciso e pieno di contenuto sdegno basta così sarà mia cura farle passare una volta per tutte il gusto di queste sue monellerie lei non farà le sue scuse al barone e alla baronessa qualsiasi rapporto con lei anche se lei si limitasse unicamente a chiedere perdono sarebbe per loro troppo umiliante il barone avendo saputo che lei appartiene alla mia casa si è già spiegato con me in giardino e le confesso che c'è mancato poco che mi chiedesse soddisfazione ma lo capisce lei e greggio signore in che situazione mi ha messo proprio me io mi sono trovato costretto a chiedere scusa al barone e a dargli la mia parola che da oggi stesso lei non apparterrà più alla mia casa permetta permetta generale e così è stato il barone stesso a esigere tassativamente che io non appartenessi più alla sua casa come lei si è degnato di esprimersi no io stesso mi sono sentito obbligato a dargli una tale soddisfazione e naturalmente lui ne è rimasto contento noi ci dividiamo e greggio signore lei deve ancora ricevere da me questi quattro federici e tre fiorini al cambio di qui ecco i denari ed ecco un foglio con il conto se vuole può controllare addio da questo momento noi siamo degli estranei a parte i fastidi e le preoccupazioni non ho avuto altro da lei chiamerò immediatamente il cameriere e gli dichiarerò che da domani io non rispondo più delle sue spese in questo albergo ho l'onore di restare il suo umile servo ho preso il denaro e il foglio su cui era scritto a matita il mio conto poi mi sono inchinato al generale e gli ho detto con la massima serietà generale la cosa non può finire così mi dispiace molto che lei abbia avuto dei fastidi da parte del barone ma lei mi scuserà responsabile ne è lei stesso per quale ragione lei si è preso l'impegno di rispondere per me davanti al barone cosa significa la sua espressione che io apparterei alla sua casa io sono semplicemente il precettore in questa casa e nient'altro io non sono suo figlio e non sono neanche sotto la sua tutela e dunque lei non può rispondere dei miei atti io sono un individuo giuridicamente responsabile di se stesso ho 25 anni ho il titolo di candidato all'università sono nobile e sono per lei una persona perfettamente estranea unicamente lo sconfinato rispetto che nutro per i suoi meriti mi trattiene dal chiedergli in questo stesso momento soddisfazione e in seguito dal chiederle anche conto del fatto che lei si è arrogato il diritto di rispondere per me il generale è rimasto così sballordito dalle mie parole che ha allargato le braccia poi a un tratto si è voltato al francese e gli ha frettolosamente tradotto che per poco ora io non l'avevo sfidato a duello il francese è scoppiato a ridere sgangheratamente ma comunque non ho intenzione di lasciarla passare al signor barone ho continuato io col più perfetto sangue freddo e senza farmi minimamente smontare dalla risata di monsieur de griot e dal momento che lei generale ha consentendo oggi a prestare ascolto alle lagnanze del barone e prendendo le sue parti ha spontaneamente preso parte a questa faccenda ho l'onore di informarla che non più tardi di domattina esigerò dal barone e in mio nome una formale spiegazione dei motivi che l'hanno indotto avendo a che fare con me a rivolgersi a una terza persona e non a me personalmente come se io non fossi in grado o non fossi degno di rispondere per me stesso è accaduto esattamente quel che pensavo il generale udendo questa mia nuova sciocchezza si è preso una paura terribile come lei avrebbe intenzione di dar seguito a questa maledetta faccenda ha esclamato o signore il dio che cosa fate di me ma lei non si arrischi e greggio signore non si arrischi altrimenti glielo giuro anche qui c'è l'autorità e io e io insomma dato il mio grado e anche il barone insomma lei verrà arrestato ed espulso di qui dalla polizia e così imparerà ad attaccar briga lo capisce lei questo e sebbene riuscisse appena a tirare il fiato dalla rabbia pure era chiaro che aveva preso una gran paura generale ho ripreso io con una calma per lui esasperante non si può arrestare nessuno per violenza prima che la violenza sia stata commessa io non ho ancora iniziato la mia spiegazione col barone e lei è assolutamente all'oscuro della forma e dei fondamenti a cui atterrò per trattare questa faccenda desidero soltanto chiarire l'infondatezza della supposizione per me offensiva che io mi trovi sotto la tutela di qualcuno che potrebbe esercitare un potere su di me limitando la mia libertà lei non ha ragione di preoccuparsi o di allarmarsi in questo modo per amor di dio per amore di dio alexiei ivanovich abbandoni questo progetto insensato si è messo a far fugliare il generale abbandonando di colpo il tono sdegnato per passare al supplichevole prendendomi perfino le mani si immagina cosa ne verrebbe fuori nuove seccature converrà anche lei che io qui devo mantenere un contegno particolare specialmente adesso specialmente adesso lei non sa lei non sa in quali circostanze mi trovo quando andremo via di qui io sono pronto e disposto ad accoglierla di nuovo in casa mia per ora devo farlo ma così insomma lei comprende bene le mie cause che mi obbligano ha esclamato in preda una vera disperazione alexiei ivanovich alexiei ivanovich ma io mi sono avviato alla porta pregandolo insistentemente ancora una volta di non preoccuparsi promettendo che tutto si sarebbe risolto nel modo migliore nel rispetto delle convenienze dopodiché mi sono affrettato a uscire talvolta i russi che si trovano all'estero sono troppo paurosi e hanno un terribile timore di ciò che si dirà di loro e di come verranno considerati e si chiedono continuamente sarà conveniente far questo o quest'altro insomma è come se stessero continuamente sulle spine specialmente quelli che pretendono all'altrui considerazione ciò che essi preferiscono è un modo di essere formale già accettato e stabilito una volta per tutte e a cui essi si attengono servilmente dovunque negli alberghi alla passeggiata alle riunioni in viaggio ma il generale si era tradito dicendo che per lui per giunta valevano certe particolari circostanze che lo obbligavano a mantenere un contegno particolare per questo si era preso quella gran paura e si era dimostrato così vile cambiando subito di tono con me era un fatto di cui dovevo tener conto naturalmente per stupidaggine il giorno dopo lui poteva pure rivolgersi a qualche autorità e quindi dovevo mostrarmi cauto per ogni evenienza del resto non avevo nessuna voglia di far arrabbiare proprio il generale piuttosto adesso avevo voglia di far arrabbiare polina lei mi aveva trattato così duramente e mi aveva spinto su una strada così sciocca che ora mi sarebbe piaciuto molto condurla al punto da dover lei stessa pregarmi di fermarmi in fin dei conti la mia ragazzata poteva compromettere anche lei inoltre cominciavo a provare anche certi altri desideri a fare certe riflessioni se per esempio io mi riducevo volontariamente a uno zero davanti a lei ciò non significava affatto che anche davanti agli altri dove si ridormia un pulcino bagnato che un qualsiasi barone poteva tranquillamente bastonare mi era venuta una gran voglia di ridere alle spalle di tutti quanti loro e uscirne da vincitore che stessero a vedere certo anche lei avrebbe preso paura e mi avrebbe richiamato e anche se mi avesse richiamato avrebbe pur sempre visto che io non ero un pulcino bagnato una notizia straordinaria ho saputo solo adesso dalla nostra bambinaia che ho incontrato per le scale che maria filipovna è partita oggi sola soletta col treno della sera per carlsbad per andare dalla cugina che significa questa notizia la bambinaia dice che da un pezzo lei voleva partire ma come mai nessuno ne sapeva nulla in fondo può anche darsi che soltanto io non lo sapessi la bambinaia si è anche lasciata sfuggire che l'altro giorno maria filipovna e il generale hanno avuto una grossa discussione capisco probabilmente si trattava di mademoiselle blanche sì qui si sta preparando qualche cosa di decisivo 7 il mattino dopo ho chiamato il cameriere e gli ho dichiarato che volevo che le mie spese fossero annotate su un conto a parte la mia stanza non era così cara da spaventarmi tanto da farmi lasciar subito l'albergo avevo ancora 16 federici e là là c'era forse la ricchezza è strano io ancora non avevo vinto niente eppure mi comportavo sentivo e pensavo come un riccone e non potevo immaginare me stesso altrimenti nonostante l'ora mattutina avevo deciso di recarmi subito da mister astley all'hotel d'angleterre che era lì vicino quando a un tratto è entrato in camera mia de griot una cosa del genere non era ancora mai accaduta e per giunta negli ultimi tempi i miei rapporti con quel signore erano stati estremamente tesi e ci comportavamo praticamente come due stranei lui non nascondeva